La Regione Abruzzo sostiene la battaglia dei balinatori, lo abbiamo fatto in tutte le sedi, compresa quella giudiziaria, l'unica Regione in Italia che si è costituita in giudizio di fronte al Consiglio di Stato, nella causa purtroppo malamente persa e rispetto alla quale il Parlamento oggi deve dare delle risposte chiare per tutelare innanzitutto il valore dell'impresa che si è creata con decine di anni e generazioni di sacrifici. Questa è la posizione della Regione Abruzzo che continueremo a sostenere in tutte le sedi competenti e oggi io sono qui insieme ai nostri operatori, ai sindaci della costa, al Consiglio regionale.